Quindi, forza, 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 con Diamutini subito che rilancia. Cambiasso, di prima la palla per Adriano. C'è Oben fuori gioco, allora lui temporeggia, aspetta il taglio. Bellissimo per Stankovic, c'è solo, attenzione Dejan, è in area. L'assist per Opa, il tiro, palla fuori, va normale, nel tiro, salvataggio! Sulla linea, clamorosa palla per i ragazzi, al minuto due. Pasquale, siamo ai 35 metri, carica a sinistro, ribattuto. Palla che sta andando in calcio in angolo, ma c'è il cuccio che la va a gestire. Guadagna al fondo per il cross, palla dentro, attenzione Oba, si gira, il cross. E' gol, 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 l'imperatore! Al minuto tre, prima azione, primo gol, forza ragazzi! Vedete che lui va, crede in questo pallone, ma Mattias Cambiasso guadagna al fondo, la mette bassa. Oba si libera benissimo, morbido è cross, e Adriano questo di testa, porta vuota, mette in vantaggio. Inter 1, Lecce 0, siamo al terzo minuto di gioco. Terzo minuto di gioco con il sesto sigillo stagionale dell'imperatore. Nello spazio, Verona, attenzione ancora Oba, di prima per Adriano, attenzione Adriano, e' solo, e' solo, il tiro! La grande parata di Sigignano, era il 2 a 0, era il 2 a 0! Parte il calcio di punizione, palla dentro, sul palo lontano, una mischia, Fontana, grande parata, ancora palla viva! La bruchita, cambia tutto, Oba, e' solo, attenzione, controlla, entra in aria, il tiro, parato! Ancora Oba, viene messo giù con il disturbo di Abruzzese, clamorosa palla del 2 a 0! Stancavice, recupera, attenzione, al limite dell'aria, Adriano, può caricare il sinistro, il suo tiro, la respinta! Oba, solo, attenzione, ci prova, salta l'uomo, poi lo chiudono in calcio d'angolo! E' palla larga, sulla destra per Cassetti, arriva il limite, carica al destro, il suo tiro, il salvataggio! Cosa è successo? Ledesma, il pressing di Cambiasso, gli porta via palla, Oba, andiamo in contropiede, Cambiasso, entra in aria, e' solo, salta l'uomo! Oba, il tiro, e' gol! 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 E' sono due! Grande azione del Cucciu! Guardate, ruba palla, Oba, gliela mette nello spazio, lui si allarga, la rimette qua perfetta con Oba che poi incrocia, e batte Sicignano per il gol del raddoppio, Lecce 0, Inter 2, forza ragazzi! Ah, che bella azione! Grande pressing, grande pressing! Adesso ci riprovano con Dallabona, avanza, la mette in avanti per Bielanovic, che viene anticipato dal Cucciu, palla vagante, Bojinov che la recupera, carica a sinistro, il tiro e' gol! E' ragazzi, che botta! Che gol che ha fatto Valeri Bojinov a Fontana, non l'ha proprio neanche vista partire! Lo salutano i tifosi della curva a Berto Fontana, inizia in questo momento il secondo tempo, Verone vede il movimento di Adriano, lancia buono per Oba, in posizione regolare, attenzione Oba, se ne va in velocità, attenzione Oba, entra in aria, contropartiene, il tiro! La grande parada di Sicignano! Cassetti cerca il taglio dentro per Bojinov, bellissimo, il cross e il gol! Grande azione, e qua c'è una incomprensione tra Fontana e Materazzi, e Bojinov porta in parità il Lecce! Bojinov tocca per Cassetti, può andare al cross, la linea di fondo, palla dentro, svirgolano tutti il pallone, calcio d'angolo! Adriano cerca di puntare l'uomo, ce ne va Adriano, lo butta giù e va, attenzione, di prima per Oba! E' regolare Oba, deve farlo andare, non passa! Daviz, e viene chiuso! E scatta il contropiede del Lecce, con Diamutene che tocca, sbagliando la misura, Verón recupera la palla, è solo Adriano, il tiro! Lo sbaglia! Lo sbaglia! Incredibile! Ha cercato il colpo di potenza solo, contro Sicignano! Attenzione Adriano solo, c'è fuori gioco, allora aspettiamo, vede arrivare Saverio, gliela mette, buona attenzione Saverio! Va da solo, Zanetti, Zanetti, entra in aria, il tiro fuori! Ed ecco che in questo momento finisce il match con Lecce 2, Inter 2, i marcatori Adriano e Martins per noi, doppietta di Bojinov.